Come vedi è tutto vuoto la piazza, infatti la gente non c'è, il lavoro lasciamo stare che non si lavora, non sappiamo come va a finire, la preoccupazione c'è, come vedi. Io sono venuta per fare il vaccino e sono uscita, adesso non ho ancora la certificazione perché la porto domani mio figlio, però è brutta stare in casa, però è logica, tutti i ragazzi e la movida e tutte quelle balle lì ci hanno rovinato anche i vecchietti. La sensazione è un po' di tristezza, per cui vediamo come va a finire. Noi apriamo di solito alle 5, abbiamo partecipato alle 8 perché non vale neanche la pena, ora proviamo a dare un servizio ma non so fino a che punto proseguirà. Purtroppo un nuovo stress, purtroppo, dobbiamo accettare e basta.